Buonasera, questa sera vorrei parlarvi di piccoli rimedi naturali che possono essere utilizzati proprio per la prevenzione da allergia a pollini. Il fitoterapico per eccellenza che tutti conosciamo meglio è Ribes nigrum, è un macerato e quindi viene ottenuto da macerazione alcolica delle giovani gemme e dei getti più nuovi della pianta per cui andiamo a utilizzare proprio la parte embrionale della pianta, quindi quella più attiva, quella più vitale, quella più ricca anche di principio attivo. Il Ribes nigrum funziona come un cortison like, quindi agisce sulle ghiandole surrenali andando a stimolare l'adeguata risposta del sistema immunitario. Solitamente è un prodotto tranquillo e può essere utilizzato anche nei bambini. Proporrei invece un po' di prudenza nell'utilizzo di Ribes nigrum nelle donne in gravidanza, nell'allattamento e negli ipertesi. In persone che possono avere o vivere queste situazioni, l'ideale sarebbe non utilizzare il Ribes nigrum ma fare la prevenzione utilizzando i sali di Schussler. Sono dei sali tessutali, quindi sali che sono già presenti a livello del nostro organismo, quindi non hanno effetti collaterali, possono essere usati addirittura dai sei mesi in su. Allora, solitamente il Ribes nigrum durante la prevenzione viene abbinato con gli oligoelementi. oligoelemento significa dal greco oligo poco. Cosa sta ad indicare? Una sostanza che può essere anche una sostanza chimica che è presente nel nostro corpo in bassa quantità, però è una sostanza che deve svolgere una funzione molto importante, quindi a volte è necessario integrare dall'esterno, proprio con le fialette per uso orale degli oligoelementi, queste sostanze. L'abbinamento dell'oligoelemento favorisce molto l'effetto di il Ribes, ne supporta l'attività e ne rinforza proprio l'azione. Ricordate che la prevenzione vi porta sempre, diciamo, dei buoni risultati. Vi vorrei fare un esempio banale. La nostra tradizione contadina ci insegna praticamente che quando noi abbiamo un terreno e dobbiamo prepararlo per la semina o l'orto o il giardino, dobbiamo comunque trattare la terra per tempo, perché la dobbiamo zappare, concimare e preparare alla buona semina, perché se abbiamo un buon terreno avremo poi una buona semina che darà dei buoni frutti. La stessa cosa è il nostro sistema immunitario. Se noi consideriamo il nostro sistema immunitario un terreno sul quale andare a lavorare per tempo, in modo che reagisca in maniera poi adeguata ai vari agenti atmosferici o alle varie situazioni in cui ci troveremo, avremo semplicemente dei vantaggi. Una buona educazione sanitaria si basa sempre sulla prevenzione, perché è molto più, diciamo, attivo prevenire il malanno ed evitare sempre di acquistare dei farmaci che hanno comunque degli effetti collaterali. Arrivederci e buona serata.